Poco da dire, partita brutta da parte nostra, un grande merito va a Porto Viro ma innegabile le responsabilità che abbiamo della nostra prestazione, prestazione in colore un po' in tutti quanti i fondamentali che non ci ha mai visto realmente in partita se non nella parte finale del terzo set che questa volta non siamo riusciti a portare dalla parte nostra per riaprire il match. C'è tanta delusione ma va subito archiviata questa sconfitta perché mercoledì avremo modo di rifarci in casa, è una partita importante contro Fano e quindi pesta già la prossima e cerchiamo di imparare da questa lezione che oggi abbiamo preso a Porto Viro.